ragazzuoli sono qui dal mio lettuccio e vi saluto tutti la febbre finalmente è passata ancora un po di tosse ma passerà anche quella e chi mi ammazza a me volevo dire solo una cosa prima del video in diretta di stasera gennaro gattuso che dici che un triplete occasionale non può cancellare la storia dell'italia del calcio che fa da esempio per le squadre dell'estero e per tutto l'estero un triplete occasionale non può cancellare quello che avete fatto voi e la juventus chiamando in causa l'inter dicendo che un triplete occasionale non vale niente allora intanto sei poco professionista anzi sei un grande poco professionista perché un allenatore di una squadra antagonista di milano non si dovrebbe neanche minimamente permettere di fare queste allusioni in una conferenza stampa perché poi è chiaro che anche tu inciti la guerra tra i tifosi e non va bene questa cosa caro gennaro gattuso sei sempre stato un ultra e mai un professionista e di questo te ne dovresti un po vergognare ma non perché non è giusto di fare per la propria squadra perché anche giusto di fare per la propria squadra ma dire che il triplete è stato occasionale con quei fenomeni con quella squadra di campioni sei un disonesto nei confronti di quei campioni lì che sono anche tuoi colleghi e allora forse un tantino di mea culpa di aver detto una cazzata caro gennarino dovresti farlo adesso ti saluto perché ti ho già concesso troppo tempo ragazzi ricordatevi che la vostra lucre vi vuole bene è sempre forza inter grazie a tutti grazie a tutti